La prossima settimana sicuramente si riprenderanno i contatti con la proprietà, quindi presumo sarà il vice sindaco a fare il primo passo per tentare di ricucire questo rapporto e le premesse ci sono. La maggioranza ha votato un atto fondamentale che era il principio della libera fruizione, cioè significa come ha detto anche il sindaco che non era consentito, non era possibile che un bel giorno un proprietario poteva cambiare, domani arrivano gli sceicchi, comprano la tennara, se la chiudono e salutano a tutti. E' questo principio che si voleva porre in essere. Siamo quasi obbligati a collaborare, ripeto, nell'interesse di tutti. Ci sono le associazioni, ci sono gli albergatori che si sono espressi in un determinato modo. Bisogna valutare tutte le posizioni, bisogna valutare tutti gli interessi collettivi, ripeto, e non gli interessi personali.